... Quindi? Quindi? Salve? O no? Quindi? Questa facendo? Ma lei ci stracca la boccia? Quanto sei scemo! Il pappagallo? Il pappagallo fa dei versi strani. Palo della luce. Il pappagallo fa dei versi strani. La spinta è una scena di suoi rovi. Nessuno mi ha pagato i rovi. Dove sono i rovi? Il pappagallo fa dei versi strani. Tocca ancora le fogliette di sotto. Provare a toccarle ancora. Bravo, bravo. Quanto sei cretino! L'ho fatta apposta così entravi nel video! Quanto sei cretino! L'ho fatta apposta così entravi nel video! Ho paura che scappino! Ho paura che scappino!